Collaborando con la PNG Management abbiamo scoperto che mancavano delle leve, leve dai 6 anni e 80 anni perché la PNG Management è un'agenzia di spettacolo di Roma e si occupa di artisti già fermati mentre io per loro mi devo occupare di talenti sconosciuti e avendo queste esigenze è nata proprio questa idea di creare questo contest, questo spazio contest dove si possono trovare le diverse figure, quindi andiamo dal canto, il ballo, la recitazione, l'arte varia, tutte le forme dell'arte varia. Quindi noi il 22 agosto saremo presenti presso il Lido d'Abruzzo con questo format, avremo come ospiti e giurati di eccezione, quindi i giurati, i presidenti di giuria, Walter Garibaldi e Danilo Piccini della PNG Management. Attraverso questo, attraverso loro daremo anche un contratto, quindi scopriranno dei talenti ma uno di loro potrà giudicarsi un contratto per un anno con la PNG Management, poi avremo altri ospiti, avremo un amico, un autore, regista Fabrizio Silvestri e poi ci sarà anche per la sezione canto il patron di Sanremo Music Award, il signor Nicola Convertino. In più il nostro progetto abbraccia ogni volta delle realtà, questa volta noi abbiamo abbracciato l'associazione Qualazamba che si occupa di animali sul territorio, quindi di animali abbandonati, di animali che hanno bisogno di una famiglia, quindi noi attraverso questo contest facciamo conoscere anche queste realtà, quindi daremo un contributo sia monetario e sia a livello logistico e tutto ciò avverrà il 22 agosto. Grazie. 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 Grazie.